Venditalia 2024 continua, siamo allo stand della T-Corporation proprietaria del marchio Caffè Toraldo, la torrefazione napoletana ormai presente da più anni nella distribuzione automatica, oggi molto ben rappresentata da Marco Simonetti, l'amministratore delegato dell'azienda, ciao Marco, ciao Fabio, ciao a tutti, e da Simone Di Bartolomeo, il responsabile vendite Italia del settore vending e OCS, ciao Simone, è un gran bel ritorno anche il tuo Ciao Fabio, buongiorno a tutti Oggi qui a Venditalia si presentano di nuovi prodotti e ce ne parlerà Simone tra pochissimo ma nel frattempo passiamo a Marco per chiedere perché avete rinnovato la vostra presenza con uno spazio ancora più bello rispetto alle edizioni precedenti qui a Venditalia 2024 Abbiamo rinnovato qui perché comunque il vending rappresenta e rappresenterà per Toraldo una parte molto molto sempre più importante dove stiamo cercando di dire la nostra anno su anno e nel monoporzionato e dopo anche sulle miscele in grani vending dove appunto siamo sempre più presenti e cerchiamo di arrivare appunto al consumatore finale anche in questo canale che ovviamente ti dà la possibilità di entrare negli uffici di entrare a contatto con il consumatore che predilige il caffè in grani a quello del monoporzionato. Monoporzionato che oggi rappresenta per la Toraldo il settore che è più in crescita e quello su cui l'azienda sta facendo investimenti sempre più importanti. A breve ti inviteremo nel nuovo stabilimento diciamo a breve sperando a breve dove ti presenteremo una serie di novità che andremo a produrre in questo nuovo capannone. Sono certo che si tratterà di una vera e propria sorpresa considerando che la tecnologia pone sempre nuovi orizzonti quando viene messa in campo nelle produzioni delle torrefazioni per cui aspetto con ansia questo momento. Grazie Marco e allora passiamo a Simone di Bartolomeo per farci raccontare intanto quali sono le novità che il caffè Toraldo porta oggi qui a Venditalia 2024. Allora buongiorno a tutti abbiamo presentato a questo Venditalia il nuovo pack momentaneo solamente per ciò che concerne le cialde e poi successivamente lo presenteremo anche su tutte le nostre referenze cap sulle compatibili e siamo andati ad ampliare la gamma di solubili già precedentemente su sistemi dolce gusto anche su Ammodomio e Nespresso. In più abbiamo ampliato la nostra gamma di cialde con prodotti infusi e prodotti aromatizzati. Sembrerebbe un pochino, in realtà sono davvero tante cose, tante referenze come avete avuto modo di vedere attraverso le immagini che il nostro cameraman ha diligentemente ripreso pochi minuti fa. Simone ormai sono sette anni che lavori con il brand caffè Toraldo. Ti ho conosciuto che eri anche tu più giovane, eravamo tutti più giovani e oggi sei più maturo, posato, competente rispetto ai trend del mercato. Qual è il futuro del prodotto caffè Toraldo nel vending da qui a dieci anni? Allora diciamo che noi siamo aperti diciamo a tutti gli orizzonti del mondo caffè, l'azienda punta su più settori, puntiamo sicuramente a quello che è il mondo oreca che è stato il core business dell'azienda per anni dalla precedente generazione, poi col subentro della nuova generazione ovvero di Marco che ha al comando della nuova proprietà attraverso le dovute figure tra quale anche la mia abbiamo puntato un poco su quello che è il mondo dei negozi specializzati, siamo attenzionati su quello che è il mondo web e iniziamo ad entrare pian piano anche nel mondo che è quello della GD, sia GDO sia GD intesa come grande distribuzione in ottica generale. Ecco io devo dirla esattamente così come mi viene Marco, siete una squadra fortissima. Fortissimi diceva che Cozzalone, sì diciamo che ce la mettiamo tutta e il concetto di squadra ci appartiene perché cerchiamo anche con i nuovi entrati di creare appunto una squadra sempre più unita e che porti avanti la nostra idea di sviluppo e la nostra idea di portare questo, diciamo l'espresso napoletano di eccellenza nel mondo. Marco Simonetti, l'amministratore delegato della T Corporation SRL proprietaria del marchio Caffè Toraldo, grazie. Grazie a te, grazie a tutti. Simone Di Bartolomeo, responsabile vendite Italia per il settore vending, grazie. Grazie a te Fabio, grazie a tutti per questo tempo diciamo che ci dedicate, ci hai dedicato e ci dedicate. Buona giornata a tutti e buona fiera.